Ciao a tutti da Letto Discount, oggi Jeep Shirok 2016, anno 2016, macchina che è stata sostituiti vecchi kit LED che erano montati per faro a parabola, quindi in BLED della Cree, con resistenza 50 W color oro, assolutamente sconsigliato perché arrivava a una temperatura da fusione, montati kit LED, mono LED della Cree originale, con resistenza nostra, che sono resistenze che puoi inserire nel faro, che non hanno temperature di esercizio alte, abbiamo anche un video su YouTube che testiamo queste resistenze, particolarità di questa Jeep Shirok, come vedete DRL in alto e lampadina in abbagliante in basso, cosa molto particolare perché hanno utilizzato praticamente, al posto di avere il DRL sotto hanno usato il DRL in alto e il abbagliante in basso, la focalizzazione e la simmetria viene lo stesso rispettata, quindi bellissima, poi cosa è stato fatto anche? Kit Cobb originale per faro fendinebbia in base H11, lampadina che utilizza sul faro an abbagliante è la IR2, anche questa lampada molto particolare e molto rara, quindi mi raccomando attenzione perché molti cosa fanno? Utilizzano un'altra lampadina che può essere l'HB3 o l'HB4, la limono, la tagliano e la cercano di incastrare sbagliato perché c'è il prodotto a posto. Bene ragazzi, io come sempre invito in sede a San Zeno all'Ambra in via Primo Maggio a Civico 16, la zona industriale per chi non sapesse, Sud Milano, video condiviso su YouTube, ovviamente ormai abbiamo più oltre 100 video su YouTube, quindi ne abbiamo veramente di video, Instagram con le stories e le foto e i video classiche, Facebook sulla nostra pagina e Twitter perché lo usiamo poco, però comunque anche Twitter abbiamo. Ciao a tutti e alla prossima!